No, non ci credo, non ci posso credere. Grandi ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate un po' di tempo fa, abbiamo fatto un contest sul sito fuel milan.com dove chi avrebbe acquistato una felpa avrebbe partecipato all'estrazione per vincere un booster, un motorino, tutto brandizzato fuel, tutto customized, tutto fatto un po' particolare. Bene, qualcuno l'ha vinto e oggi noi glielo consegneremo. Nota bene, lui non lo sa, quindi sarà una sorpresa esagerata. E possiamo dire che lui si chiama Stefano. Stefano, stiamo arrivando, today is the day. Stef, stiamo arrivando, stai facendo una test così faccio. Bene, allora carichiamo il tutto sul veicolo e con il veicolo portiamo l'altro veicolo a Stefano. Let's go guys! Tutto è carico, ciò che è carico, andiamo a destinazione. Ragazzi, dovremmo avere solo booster nella vita così si chiude anche la sponda. Bene, ragazzi siamo arrivati nella posizione X. Lui è Marco, il suo migliore amico ci sta aiutando a fargli una sorpresa come si deve e quindi ora studiamo un paio di cosine carine per far venire la sorpresa e vedrete adesso l'arrivo di Stefano. Marco, che cosa hai detto a Stefano per farlo arrivare qui? Gli ho detto che doveva aiutarmi a portare un vaso in casa che da solo non ce l'avrei fatta. Ah, il vaso famoso! Il vaso di Pandoro. A voi le immagini. Buonasera, Stefano. Sono tutti qua perché dobbiamo consegnarti qualcosa. Oh cazzo! Stai scherzando? No. Tu sei qualcosa. No, non sei nulla. Sei pronto? Sì. Sì, l'avevo visto. Stavo seriamente. Non ci credo. Sì, l'avevo visto. Posso provarlo? Direi. Certo. Direi. Ma questa è troppo famatica. Alla prima. Non ci credo ancora perché io non l'ho mai visto neanche boh. Ne ora le macchinette o niente, certo. Bene, raga. È stato molto particolare come sensazione. Emozionante, è vero. Io mi sono emozionata. Dai, regalare e fare felice qualcuno è sempre bello. Poi è proprio contento. Bello. Andate a seguire il profilo Fuel su Instagram perché a breve, comincia il prossimo contest dove verrà regalato un nuovo oggetto. Quindi seguiteci e fate meno gli swanzi. No, continuate a farlo. Continuate a fare gli swanzi. Grandi raga. See you in the next video. Ciao. Ciao. Pushing. 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 Grazie per la visione!